La prima sfida del nostro gioco del paiolo, vogliamo contare fino a tre tutti insieme e allora 3, 2, 1, via! E vi siete fatti bruciare subito da Fompeo, fermi lì sulla linea di due metri a raccogliere la farina, dovete assolutamente passarla con i mestoli, non è possibile, ecco, mi raccomando non sprecatela. Secondo viaggio per gli amici del bar Fompeo, mi raccomando la ragazza che è dentro non sporcatela, ci teneva a rimanere illibbata, se vestitela anche di nero, intanto sono già passati 30 secondi. 1,5, pronti ad appoggiare la ragazza in paiolo, la farina che viene, come vedete con quanta cura, viene trasbordato questo prezioso ingrediente della nostra cucina. Ragazzi, eccomi, vediamo se, allora, alcuni del bar Bucca sono già tornati e vorrebbero fare un altro giro, ma mancano 35 secondi, 35 secondi, Fompeo mi state facendo fregare? Ah, voi ne avete portato di più, allora, ce la facciamo fare un altro giro, mancano 25 secondi, 25, 20 secondi. Allora, ricordate che prima hanno vinto quelli che hanno fatto più viaggi, voi siete già al secondo viaggio, gli altri stanno ancora invece caricando il primo. Allora, forza, capucetti rossi, invece il fotovoltaico, come vedete, vuole essere sicuro di essere assolutamente pieno per il primo viaggio. Un minuto, un minuto, siamo a metà percorso, ecco, stiamo perdendo con la strada alla farina. Signori, l'importante è non farsi male, eh? Allora, capucetti, ritorniamo, questo è già il quarto viaggio, siamo a quattro viaggi a due, mancano 40 secondi. 40 secondi, come potete ammirare, le due tecniche assolutamente differenti, ma non per questo. meno il piccacci, 30 secondi, il netto vantaggio, lo possiamo dire, la squadra dei cappuccetti rossi. Tutto sta nel capire quanta farina riusciranno a caricare gli amici del fotovoltaico. Quanta? Riempite il faiolo, riempite anche la ragazza, perché non ce la potete fare. Forza! Allora... Due, uno, via! Allora... E qui mi sa che assisteremo a una bella gara. Come vedete, con precisione chirurgica, proprio la scuola materna sta trasportando la farina con questi faioli. L'importante sarebbe... Allora, già pronti il flinstone per il primo viaggio? Scuola materna, cosa fate? Siete in ritardo? Non è consiglio. Allora, mi raccomando, non sprecate la farina, non buttatela via. Allora, è intanto piove qua, stiamo già facendo il pane, praticamente. Allora... La testa, per scuola materna e flinstone. I flinstone ritornano! Secondo viaggio. Ragazzi, ma questi... Sono abituati a... Non ci sta, non ci sta. Non avevamo previsto questa casisteria. Allora, dobbiamo pesare e svuotare, ci dicono. Allora, quanto manca? Tempo, 20 secondi, 15. Mi so che sarà l'ultimo viaggio per tutti. 3, 2, 1, viva! Allora, ma abbiamo avuto bene! Ce ne sono fatti di prima. Gli ercoloidi, ma guardate. Hanno paura di sprecarsi per la barbucca. Ma guarda, sono lì con le imprese di piedi. E poi qua, il barbucca 2 ha già spingato il primo potenitore. E poi, dietro a manco. E poi, sono in ritardo. Sono in ritardo. Forza, barbucca. Secondo potenitore è l'uomo in un'altra partita. Assolutamente. Allora, dobbiamo manca. E se... Passiamo ancora... Pesano, non c'è l'intubi con il territorio. Allora, ragazza che pesa. E... Buongiorno, buongiorno. Scusami qua. Madonna. Non c'è l'intubi. 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 Guardate la mossa. Siete ancora a recuperare. Potete ancora recuperare. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno... Ultimo giro. Fermi. Vogliamo fare una cosa per la ragazza di Viva. Viva, viva. C'è l'intubi a Viva opposta. Viva, viva. Viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Eh, sì. Primo viaggio per i lampiri, forza. Miracolano, non sforcatemi. Viva, viva. Viva, viva. Allora, è rinforzati indietro alla concorrente. Giudice Arbuto, mi raccomando, la pesa pura. Allora, quanto manca? Intanto siamo già cinque, cinque, cinque. Si no menoassuncio per i lampiri. Enve duplicate, forza e rinforzati. Salve, viva. Txŋnarelico. Che c'è il vento. Il vento del vento. Oye come dice, negra. An bay da n responsible. Ripita conmigo, sabe? Dicelo. Viva, i lento. Cantora, a vena zona è larga. An bay da. Для de la 63 U dam privata di Cigli, Grazie.